Giovani e dipendenze, la campagna di prevenzione V-Free del progetto di Derot della Fondazione CRT realizzata dalla comunità San Patrignano con il confinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si estenderà quest'anno per la prima volta anche alle classi seconde delle scuole medie del biellese. A partire da oggi saranno circa 30 le classi interessate negli istituti secondari di primo e secondo grado per un totale di oltre 600 studenti coinvolti. La campagna V-Free toccherà in particolare gli istituti comprensivi San Francesco d'Assisi e Biella II, il Bona, il Gai Aulenti di Biella ed ancora l'istituto comprensivo Valdilana-Pettinengo, Cavaglià e Mongrando. Diverse le azioni proposte in modalità online con l'obiettivo di prevenire le dipendenze ed il disagio giovanile. Educando ragazze ad affrontare la vita in modo consapevole e responsabile. I laboratori interattivi in cui gli studenti di seconda media saranno accompagnati in un percorso focalizzato su scelte, interessi, priorità e sogni per offrire loro spunti di riflessione. Gli incontri dibattiti, hashtag raccontami, durante i quali alcuni ragazzi che hanno terminato il percorso in comunità porteranno la loro testimonianza. Ed ancora i format di prevenzione, hashtag chiaroscuro, reportage sulla fatica di crescere in cui Carolina, Milita e Federico, tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero, raccontano la loro storia.